Restano in bilico i finanziamenti per il piano di zona S9 e quindi i fondi richiesti alla Regione per i servizi sociali da avviare nei 17 comuni dell'ambito che si estende da Sapri a Camerota. Fino ad oggi Santa Marina non ha fatto dietrofront sulla sua decisione di non firmare la programmazione 2013-2015, una scelta che continua a far rimanere aperta la procedura di commissariamento. Mercoledì sera a Napoli l'assessore regionale a ramo Ermanno Russo ha ricevuto i sindaci del coordinamento per cercare di individuare insieme una soluzione che possa evitare la nomina di un commissario che come ha ribadito anche ieri l'assessore Russo si sostituirà solo al comune di Santa Marina. Al termine di un'accesa discussione gli amministratori santamarinesi si sono impegnati a firmare la convenzione soltanto se alla stessa saranno apportate alcune modifiche. La proposta è stata accolta ma ad alcune condizioni. Nelle prossime ore il sindaco Dionigi Fortunato dovrà fornire al sindaco di Sapri comune capofila del piano di zona la lista dei ritocchi da apportare. Le modifiche dovranno essere fornite entro la giornata di venerdì quando si riunirà la giunta regionale che sarà chiamata a decidere se sospendere o meno le procedure avviate per il commissariamento dell'ambito S9. Le sorti dei finanziamenti richiesti per i servizi sociali restano dunque nelle mani di Santa Marina. In ballo c'è un milione di euro, una parte dei quali la regione potrebbe stanziare per servizi sociali del Basso Cilento già entro l'anno in corso. Una vera e propria boccata d'ossigeno in un periodo in cui gli enti locali hanno difficoltà a gestire fin anche l'ordinario.